Sono Silvia Di Stefano e oggi sono vestita da Befana perché è il 6 di gennaio e sono qui perché oggi faremo l'inaugurazione del cesto accessibile donato dal pastificio Michelis all'associazione discesa liberi per cui ho sciato e ho vinto vari campionati italiani sia in slano gigante che in slano speciale. E' la prima volta che vola? In Mongolfiera sì. Emozionata? Deve essere bellissimo. Quanti anni sono? Sono Vitiello Carmela, sono onorata di partecipare a questo evento straordinario di discesa liberi e sono anche contenta di aver partecipato a questo progetto di Volo Prenderti e che mi avete dato la possibilità veramente di rendermi utile in questo progetto così importante. Grazie mille, alla prossima! Grazie mille, alla prossima!